Chi ha un orto familiare lontano da casa potrebbe prendersene cura senza incappare in sanzioni date le attuali limitazioni agli spostamenti. Pare infatti ci sia stata un'apertura da parte della regione Campania a cui sono pervenute tante sollecitazioni affinché autorizzasse chi pur non professionista ad allontanarsi da casa per prendersi cura del proprio terreno. Un'esigenza impellente soprattutto ora ad aprile che è un mese fondamentale per pulire e impostare i campi con semi e trapianti che poi porteranno al raccolto estivo. Anche il presidente della comunità montana Raffaele Accetta si è fatto interprete di un sentimento diffuso sull'intero comprensorio dove predomina la realtà dei piccoli campi e per questo ha chiesto al governatore Vincenzo De Luca di valutare l'opportunità di un aderoga al divieto di uscire per quelli che Accetta definisce preziosi conduttori di piccoli campi, convinto che la coltivazione degli orti familiari come la cura del piccolo vigneto o liveto abbia un valore sociale e ambientale di particolare di lievo. Intanto la regione Campania nei giorni scorsi aveva risposto al comune di San Rufo che nella persona del responsabile suo a Pantonio Manzione aveva formalmente chiesto lumi sulla questione dicendo che sì sono consentite le attività negli orti privati finalizzate al sostentamento familiare se c'è necessità di non far perire le colture e limitatamente ad un'unica persona. Dubbi e interrogativi però permangono e resta fermo sulla posizione di chiedere un'ordinanza regionale che chiarisca in modo inequivocabile la problematica chi in questi giorni si è fatto portavoce degli interessi di pensionati agricoltori non professionisti che si sono visti impossibilitati a prendersi cura dei propri campi. Quindi il presidente Raffaele Accetta, il CODA con il responsabile settore agricoltura Salvatore Gasparro e anche il vice sindaco di Salvitelle Francesco Perretta. C'è poi chi come ad esempio il sindaco di Colliano Adriano Goffredo ha emanato un provvedimento comunale che consente ai cittadini di spostarsi da casa per raggiungere l'orto. Un'azione che suscita opinioni controverse. Francesco Perretta pensa infatti che provvedimenti di questo tipo siano invalidabili in assenza di un'ordinanza regionale. Salvatore Gasparro invece suggerisce ai sindaci del Vallo di Diano di seguire l'esempio di Colliano, quindi la via dell'ordinanza sindacale che ora sarebbe supportata anche dal parere della regione dato al comune di San Rufo.